Ciao bambini, io sono Buffetta e oggi vi presento la nuova collezione Snooks dell'Azzurro Sono simpatici animaletti, molto profumati, dolci e tanto carini, tutti alla moda, giusto Fancy? Giusto Buffetta? Eh, io ti devo dire una cosa però, ne ho già aperta una, guardate Eccomi, io sono Lulu e so di limone Mmm, non riuscite a sentire il mio profumo? Guardate, io sono della conelezione Snooks e adoro il limone E loro sono le mie amiche, che dite, ne apriamo almeno una? Sì? Prima ve le voglio presentare Allora, guardate, loro sono Mello, Berry e Lolli E sono solo, ah, l'elastico E sono solo alcune delle mie migliori amiche Ora andremo ad aprire Berry, o Mello, o Lolli, non lo so, guardate Questa è la spiegazione di come si gioca Apriamo la nostra Snooks, la scutiamo e poi la pettiniamo con mille acconciature diverse Tutte quelle che vogliamo In ogni confezione ci sono ben due accessori profumati più il pettine Queste sono tutte le mie amiche Berry ama le fragole e la crema quanto le coccole Lolli adora condividere i suoi dolci lecca lecca Lulu, frizzante come una gotta di limone Mello, soffice e dolce come un marshmallow Bubble, si diverte a creare bolle giganti con le bubblegum E Beanie, colorata quanto un barattolo di jelly beans Sono bellissime E se andate sul sito di zuru.com trovate anche le altre Fanno parte di Game Vision, vedete? Sanno tutte di frutta Io sto di limone perché adoro limone La mia amica Berry sa di fragola La mia amica Lolli sa di mirtillo La mia amica Mello di marshmallow Bubble di caramelle E Beanie di fazori salterini Ma i quali preferirei capire? A me piacciono tutte anche se mi piace tantissimo la fragola Quindi io opterei per lei, per Berry Io sono indecisa tra Lolli e Berry in realtà Sono tutte e due molto carine Cosa dite bambine? Bambine apriamo Berry, siiii! Che poi dovete sapere bambine Che le snoops una volta aperte diventano otto volte più grandi Quindi andamolo ad aprire subito Un'apria così Tuttiniamo fuori il pettine Si vede il pettine rosa Lo appoggiamo qui e iniziamo a spacchettare Intanto qua ci sono i due accessori Profumati Sentiamo come un'apria Profuma di fragola La tiriamo fuori e cominciamo a squatterla Squatiamo, squatiamo, squatiamo Più forte che possiamo Squati, 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 squati Eccola qua Berry Ah è tutta spettinata Infatti il secondo passo bambine è pettinarla Ora la andiamo a pettinare Guardate la pettiniamo per bene Le togliamo tutti i nodi dai capelli Così, così, così Sembra un po' una pazza eh Infatti ora le accontrano i capelli Io le volevo fare due piccoline qua Magari sembra un po' meno pazza O magari no Sentiamo Questa è una E' carina però Questo è il problema Ci può Questi poi li mettiamo dietro Ah scappate Mi sono scappate Così Aspetta un po' di pazienza Berry Che abbiamo quasi fatto Un po' di pazienza Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ed eccoci qua Ora ci facciamo prestare Un elastico E ci facciamo anche la coda di qua Va bene Ve lo posso prestare io un elastico Eccolo qua Grazie Lulù Adesso Facciamo anche una coda Così sembri un po' meno pazza eh Con questi capelli sparati sulla testa Non so chi mi pare Ci siamo quasi eh Ci siamo Ci siamo Te ne ho presi veramente pochissimi Ta-dan Yeee Vi piace bambini Sei molto più carina così Questo a chi lo mettiamo Ah Lulù E' stata così carina con me Va bene Vieni qua Lulù Ti mettiamo questo cerchietto rosa Sei veramente adorabile Grazie Avete visto bambine E' divertentissimo giocare con le snooks Voi quali preferite E quale conciature potremmo fare Ce lo consigliate Sì consigliateci quale conciature potremmo fare Magari più carina la conciatura tipo la mia Ma non sono carinissima E' meglio che lasciamo perdere Ma perché Queste erano le snooks della Zuru In collaborazione con Gamevision Quindi bambine Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate E iscrivetevi soprattutto al nostro canale Noi vi aspettiamo Esatto E per questo ci saranno altri episodi Con un sacco di altri giochi E un sacco di altre amiche speciali Non quanto me Che io ho un occhio azzurro e uno blu Vedete Però anche loro sono speciali Quindi noi ci vediamo al prossimo video bambine Un bacione Ciao ciao Anche dalle snooks Ciao bambine Ciao 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 Ciao